Avrebbero organizzato una frode fiscale grazie a false fatturazioni. Le indagini condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo avrebbero permesso di scoprire l'esistenza di una organizzazione criminale che dal 2016 al 2020 si sarebbe avvalsa di un consulente fiscale palermitano per favorire tre società specializzate nel commercio di materiali per l'edilizia riconducibili ad un imprenditore di Alcamo. Questo sistema avrebbe generato false fatturazioni per oltre 37 milioni di euro. Sarebbero state utilizzate 22 società cartiere in Sicilia ma anche in Lombardia, Veneto e Puglia. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari su richiesta della procura nei confronti di Salvatore Città, 68 anni, di Bagheria, amministratore della società Milotta Group, Labor Fair e Leco Fair e di Gianfranco Milotta, 46 anni, di Alcamo, amministratore della stessa società. Per Giacinto Sciortino, 47 anni, residente a Bagheria, il GIP ha disposto l'obbligo di dimora. Gli indagati, in totale 24, tra persone fisiche e giuridiche, sono accusati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudulenta mediante utilizzo di false fatture, emissioni di fatture false, occultamento e distribuzione di documenti contabili, autoriciclaggio, omessa dichiarazione, indebita compensazione e omesso versamento. Con lo stesso provvedimento, il GIP ha disposto il sequestro preventivo di somme e beni per oltre 14 milioni di euro.